Ciao a tutti, oggi sono molto contenta perché come vedete sono appoggiata su un bellissimo gigantissimo pacco che viene dal sito di Trend, è un sito a cui sono iscritta da tanti anni e che sostanzialmente funziona come vi ho spiegato anche in video precedenti, ovvero senza bisogno di essere un vlogger, una vlogger, un youtuber, voi vi potete iscrivere gratuitamente a questo sito e questo sito promuove delle campagne per provare e testare i prodotti, voi potete candidarvi alle campagne che loro propongono e di tanto in tanto venite scelti e potete provare i prodotti che loro vi mandano gratuitamente a casa. Ovviamente il sito non è obbligato a accettare ogni vostra candidatura, quando succede io sono sempre entusiasta. Oggi ho scelto di aderire, insomma adesso è partita una nuova campagna che è quella del pacco che vedete qua sul mio tavolo, è appena arrivato e lo andiamo a aprire insieme, questa volta è una cosa molto diversa rispetto alle precedenti, ma sono molto contenta di aprirlo con voi, non è un prodotto cosmetico, è un prodotto da mangiare. Le mie campagne preferite sono quelle dove vi danno dei campioncini da far provare ai vostri amici e parenti, perché così date una cosa che in pratica la persona potrà utilizzare e vi darà un'opinione. E a volte sono venute fuori veramente delle scinette super simpatiche che ho amato. Andiamo qui sul pacco con voi, vi faccio vedere di cosa si tratta la campagna di questa volta. Non avete visto niente! I prodotti che mi sono arrivati sono del marchio Kellogg's. Praticamente questi prodotti sono una nuova linea per fare colazione. Ha il sapore cacao e nocciola, senza zuccheri aggiunti, questo appunto è cacao e nocciola, è adatto per vegani, è senza olio di palma, viene dato come prodotto dell'anno 2020. Devo dire che è molto molto carina anche la confezione, molto bellina, con questi disegni e con questa combinazione di colori. E non c'è solo cacao e nocciola ma c'è anche frutta secca. Anche questo è carinissimo, anche qui carina la combinazione di colori e la presentazione è lo stesso, quindi anche questo è prodotto dell'anno e non vedo l'ora di provarli. Nella confezione non c'è solo questo, ma abbiamo anche due scatoloni per darle appunto a tutti i miei amici. Le confezioni omaggio sono queste. Proviamoli e poi magari più in qua, questo è un mini video, ma più in qua magari vi faccio sapere come mi sono trovata con questi prodotti. Devo dire la verità a me Kellogg's, a prescindere da questo, che in questo caso è anche molto carino nell'aspetto e la frutta secca e il cioccolato. Mi sembrano due gusti molto gustosi, molto interessanti, però è un marchio che compro comunque, cioè fra i cereali che mangio più di frequente ci sono quelli Kellogg's. Dunque ho appena girato il video dove vi aprivo il pacco, però ho pensato che forse, visto un video breve, posso approfittare per darvi qualche informazione in più su questo progetto, su questa linea di Kellogg's. Le linee nuove di Kellogg's non sono solo quelle che vi ho fatto vedere, che mi hanno mandato, ma ce ne sono sei. Sono tutte bellissime e so già che andrà a finire che le comprerò tutte alla fine, perché mi chiedono non ti viene voglia di assaggiarli solo a guardarli? Sì. Ci abbiamo come prima linea, che è quella che ci hanno mandato e di cui ho anche campioncini da distribuire, la linea Kellogg's senza zuccheri aggiunti, granola frutta secca. Combina una deliziosa granola con cereali integrali con mandorle anacardi, scaglie di cocco, quindi deve essere veramente fantastico. Io adoro le scaglie di cocco e è una fonte naturale di magnesio. Questi prodotti sono tutti naturali, quindi non hanno dolcificanti artificiali, hanno tante fibre, non hanno né coloranti né aromi artificiali, non hanno olio di palma e sono vegani. Poi a me hanno mandato anche la linea cacao e nocciole, che devo dire che così solo con la parola cacao mi hanno conquistato. Dice contiene minerali come fosforo, magnesio, ferro, zinco. Poi c'è la linea lamponi, mela e carota, molto interessante. Anche questo è ricco di fosforo, magnesio, ferro e zinco, quindi molto interessante. Secondo me potrebbe anche essere bella energizzante la mattina per tirarsi un po' su. Poi c'è cioccolato fondente e cocco. Oddio mi sento male, la combinazione delle due precedenti che mi ispira di più, quindi questa la devo assolutamente provare. Ci sono quattro cereali, avena, farro, orzo e riso, ha proteine vegetali. Poi c'è la linea farro, mirtilli rossi, è fatta di avena integrale, farro, orzo, segale integrale e mirtilli rossi, semi di lino, uvetta. Poi c'è cereali integrali cioco, che è una linea biologica con frumento integrale e al gusto di cioccolato. Se vi interessa cercare le foto pubblicate per questa linea dovete cercare l'hashtag bontà tutto tondo e colazione naturale W.K. Kellogg. Ok, un'altra informazione mi sembra interessante è che per ogni confezione di cereali W.K. Kellogg l'azienda si impegna a donare fino a 10 centesimi a progetto a sostegno di buone cause, quali la Croce Rossa Italiana, la Fondazione Banco Alimentare Onlus. E niente, devo dire che secondo me le informazioni base per questa campagna ve le ho date e ci vediamo alle prossime colazioni.